Allora, prima di tutto, come abbiamo detto l'altra volta, dobbiamo aggiungere delle viste 3D, che ovviamente devono essere viste significative. Quindi adesso se vado sulla vista 3D, vedo questo progetto così. Se a me serve spiegare bene in 3D come è fatto al primo piano, ovviamente è utile tagliare direttamente il 3D per ottenere una cosa che penso che è questa qua. No, non è questa. Ok, per fare un spaccato praticamente. Allora, faccio così. Per non farlo direttamente sulla vista 3D generica, quella che uso di solito, ok? Fare così, tagliare con il box, questo è il cut box, section box, quello che abbiamo visto. Posso andare, questo lo lascio come era, e posso raddoppiare la vista. Quindi faccio, clicco con il tasto destro su 3D e faccio duplicate view, ok? Adesso ho fatto una copia, ok? Qui è bello che possiamo aggiungere quante ne vogliamo di viste. E questa vista può essere rinominata, spaccato, piano, o può essere una sezione, o piano primo. O sezione, o sezione, piano, piano, ok? Allora, adesso seleziono questo e lo metto a un certo livello. Per esempio, vado su una vista frontale e seleziono un'altezza giusta, dove si tagliano le porte, per esempio, così sono a un'altezza, diciamo, utile. Ok. Posso sempre tornare al 3D e rimane intatto. Ok. Adesso ritorno al 3D, faccio duplicate view di nuovo. Ok. Rinomina. Sezione. Ok. Faccio così. Per esempio, così. Per spiegare, per far vedere che questo spazio si interfaccia a questo qua. Ok. Quindi possiamo fare così. O forse passando per scala è meglio. Quindi questo da decidere. Potete decidere quale è più utile. Ok. 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 Così mi sembra molto buono. Così si vede l'apertura qui e si vede anche la scala. Ok. Ci vedono i spazi interni. Sotto. Ok. Allora, questo colore del solaio non mi piace. Vi ricordate come si cambiava? Abbiamo visto l'altra volta. Seleziono il solaio. Seleziono il solaio. Edit type. Vado su edit. E qui guardo il preview. Per vedere quale strato è questo che è arancione e che non mi piace. Questo qua. Che sarà il secondo da sotto. E questo qua. L'aterizio. E qui seleziono. Questo è l'aterizio. Vedete il shading. C'è l'arancione. E io posso selezionare un altro colore. Se non mi piace. Penso lo faccio grigio. Ok. Apply. Ok. Vedete è diventato questo grigio. Adesso è diventato tutti grigi. Ok. Questo non solo. Adesso io ho modificato il materiale. Attenzione che questo laterizio si è utilizzato non solo per altro solaio. Anche per un muro o per un'altra cosa. Comunque è stato modificato. Perché io non ho modificato il solaio. Ho modificato il materiale. Ok. Quindi l'aterizio dovunque ci sta avrà un altro colore. Ok. Allora. Vi ricordate quando abbiamo detto che noi possiamo fare qui una visualizzazione Ray Trace. che mi visualizza praticamente in tempo reale il rendering di questo oggetto. Però questa è sempre una visualizzazione tutta approssimativa. Perché è difficile per lui che fa tutto bene in tempo reale. Quindi come giro lui. Comunque mi aggiorna questa vista. Ovviamente questa la posso interrompere in qualsiasi momento. Allora perché c'è stop e c'è close qua? Perché lui in tempo sempre andando avanti sta facendo ancora meglio questo rendering. Nel senso che sta entrando nel dettaglio. Lui prima di tutto fa una cosa approssimativa, una cosa più precisa, poi una passata più precisa per tutto quanto il 3D. Quindi alla fine se io lo lascio così, lui sta sempre migliorando questo rendering. E lo sentite perché il computer rimane con la ventola accesa che sta sempre lavorando. E vedete che c'è meno sgranatura dentro. Però comunque la qualità del rendering non è molto buona. Rimane una cosa approssimativa perché i parametri sono di qualità bassa per non appesantire tanto il lavoro. Invece se dobbiamo fare un rendering proprio, lui si ferma, non può fare più nient'altro, lavora solamente sul rendering. Ancora noi qui possiamo girare. Quindi vuol dire che ancora rimane interattivo, rimane pesante la cosa. Quindi questo va bene solo per una visualizzazione così, in tempo reale, per vedere più o meno come stanno le cose. Qui se faccio stop, lui si ferma, non fa più nuovi calcoli e posso salvare questa immagine. Però come vi ho detto non è questa la cosa che vogliamo adesso. Posso chiudere e lo torna come era prima sul shading, quello di prima. Invece quello che ci serve a noi è il rendering proprio quello che è fatto bene. Il rendering proprio. Quindi devo andare su View, ok, su Visualizza, e devo scegliere Render. Vado su Render, ok, vado su Render, e qui ho adesso i settings che sono i settaggi di questo rendering. Come posso fare, diciamo, di che qualità posso fare. Allora, prima di tutto, posso renderizzare quello che vedo e posso anche renderizzare una regione. Posso selezionare una regione da renderizzare. Ok, adesso non ci interessa la regione. Vado su Settings. Settings, quello, diciamo che, è quanto dovete avere preciso principalmente il texture e la qualità della luce indiretta. Che praticamente nel rendering, quando lui calcola il rendering, la cosa più difficile per lui è calcolare la luce indiretta. Nel senso, qui adesso quello che vedo, vedete, si vedono le ombre. Lui dove c'è la luce diretta mi lo fa vedere, dove non c'è la luce diretta mi lo fa vedere, però un po' più scuro. Quindi per lui la luce diretta è molto facile da calcolare, creare le ombre, le fa in un attimo, in tempo reale. Invece la luce indiretta è questa la cosa chiave in tutti i motori di rendering. Quindi qualsiasi motoro di rendering si differenzia dall'altro perché può calcolare meglio la luce indiretta. La luce indiretta nel senso che quello che vedo qui, adesso tutto quello che abbiamo di luce qua, quasi tutto, è una luce indiretta. Quello che entra nelle finestre è una luce indiretta perché non c'è il sole diretta oggi. Se c'è il sole diretto, arriva proprio un'ombra netta e facile da calcolare. Quindi una linea in là, si proietta una linea per terra. Invece la luce che sta entrando, come vedete, come notate qui, quindi quello che voglio farvi capire è che la differenza è tanta tra low e high. Quindi se ci perde tanto tempo per farlo fatto bene, quando usiamo high o best, questo è il migliore, ci mette molto più tempo, però fa veramente un effetto molto più buono. Poi un'altra cosa, soprattutto qui in questo software, si nota anche la qualità del texture, quindi il texture che mette, come se lui non lo sta importando con una buona qualità perché diventa pesante. Poi c'è altri discorsi come anti-aliasing, altri discorsi che non dobbiamo entrare perché per ora non ci interessano, però sapete che per fare il rendering fatto bene dovete usare all high o best. Quindi per fare le prove usate questo low, usate questo low per fare una prova per vedere se va bene, se vi piace la luce, se non vi piacciono i materiali, dobbiamo prima modificare i materiali. Se ci piacciono, per fare il rendering finale lo facciamo con high o con best, quindi uno di questi due vanno bene. Allora, adesso la risoluzione è la risoluzione dello schermo, quello che propone lui, vedete come la larghezza è 686, 481, quindi lui prende la misura dello schermo, ok? Adesso lo schermo mio è di risoluzione da qui a qui mi sa 1280, ok? Quindi questa porzione dello schermo è di 686, quindi lui fa un rendering che ha questa risoluzione proprio dello schermo. Se io voglio farlo di alta risoluzione, uso printer, quindi stampante. Lui prende la misura di questo schermo, ok? Però la misura diciamo in millimetri e poi posso aumentare il DPI, quindi quanti punti per millimetro, quindi come se sto aumentando la risoluzione. Quindi in un millimetro il DPI sapete che cos'è, giusto? Che nel senso quanti punti per inch, sì. Quindi più abbiamo DPI più risoluzione abbiamo, quindi di solito si usa 150 di media, maggior parte dei casi. Però per fare una cosa fatta bene dovete usare 300 DPI, ok? Però ovviamente guardate i pixel, qui 7000 pixel sono veramente tanti e potrebbe mettere tanto tempo per fare una cosa di alta qualità, ok? Quindi 150 va bene, 3800 per 2400, non lo so adesso con questo progetto, con questi parametri qua quanto ci metterà, però probabilmente mette anche un'ora o di più, ok? Quindi adesso facciamo una cosa più semplice, faccio 75 DPI e qui uso low per provare a fare una cosa, o anche adesso per ora solo nella lezione uso screen per fare una cosa più veloce per non perdere tempo. Allora, dentro lightning, adesso qui posso usare un'opzione di questi che dice che usa il sole solo o usa il sole e luci artificiali. Allora, io ancora non ho aggiunto luci artificiali, però possiamo aggiungere luci artificiali come abbiamo aggiunto qualsiasi oggetto. Nella libreria ci sono anche i luci, quindi possiamo andare in libreria, aggiungere un componente che sarà una luce, andiamo in libreria, prendiamo la luce, attacchiamolo e questa luce diventa una risorsa di luce artificiale che non è il sole. Quindi se io uso exterior sun only, quindi solo la luce del sole, alla fine lui mi farà un rendering con dentro rendering accesa solo il sole e anche se ho aggiunto le luci artificiali non mi li visualizza, ok? Lui fa questo per semplificare per lui il lavoro. Quindi se io veramente faccio una cosa esterna, molto probabile che non mi servono questi interni, ok? Quindi basta usare sun only così faccio un rendering più veloce. Invece se io dall'esterno comunque mi servono luci interni per vedere come si vedono nelle foto qua, che ci sono questi, per esempio, luci interni che si vedono, invece in questo caso non si vedono, non mi importa. Quindi voi dovete scegliere che cosa dovete fare e qui potete selezionare l'opzione. Ok. Sun settings potete scegliere anche il sole come posizionata, quindi tra l'attitudine e l'azimus. Però adesso io li lascio così com'è e il background com'è lo sfondo, è una luce, scusate, un cielo con poche nuvole, un cielo senza nuvole, quindi lui mette un background default che fa un effetto tipo questo, quindi adesso possiamo usare anche sky few clouds, va bene. O possiamo anche scegliere un'immagine nostra, però per ora non complichiamo le cose, quindi fa sky few clouds. E qui lasciamo la luce, lasciamo il cielo chiaro perché possiamo anche scegliere verso hazy che è un cielo un po' più polvere, che cambia un po' il colore, cambia tutto quanto, però lasciamolo così. Allora adesso con queste impostazioni che sono impostazioni basse per non perdere tempo faccio render. E vedete adesso come lui ci mette un po' per farlo, anche se è basso, quindi immaginate se fate la qualità alta ci mette molto più, di più. E vedete come qui i colori sono molto meglio di quello che abbiamo usato di Drey Trace. Ok? Vedete tutto sgranato perché ho usato proprio low, è molto bassa come qualità. Allora adesso la stessa cosa però la voglio fare in una vista, una vista di una camera, questa qua che ho fatto prima, o posso anche cambiare, faccio una nuova camera, quindi piano 0, creo vista, view, 3D view, camera, per esempio da qui, dalla scala, come se sto uno sulla scala, ovviamente devo selezionare le viste che sono utili, non mettiamo 10.000 rendering, facciamo per esempio di camere, facciamo 2, 3, però devono essere, devono far vedere qualcosa di utile, non un pezzo di muro chiuso o qualcosa che non ci interessa. Quindi vedete, per esempio, questo potrebbe far vedere bene il rapporto tra il terreno fuori, prima mi fa vedere una facciata, poi mi fa vedere il rapporto tra sotto e sopra, quindi qui c'è il dislivello, mi fa vedere una bella parte di questa architettura. Ovviamente io ho allargato probabilmente troppo questi limiti, vedete come la prospettiva qui comincia a diventare troppo deformata, ok? Quindi se in prospettiva, guardate dal punto di vista prospettico, qui è molto spinta questa vista, perché se voi vedete i punti di fuga, questa c'è un punto di fuga qua più o meno, vedete queste lino, no? E questa c'è un punto di fuga qua, quindi molto vicini tra di loro, vedo che le cose spuntano molto fortemente, guardate quest'angolo diventa molto forte. Questo si può risolvere allontanandosi magari con la camera e richiudere un po' il limite di vista, ok? Quindi possiamo fare zoom, o possiamo comunque, più facile mi sa, faccio delete e creare una camera nuova, che è un po' più lontana da qui per esempio, a qui, ok? Ok? E la devo alzare un po', quindi seleziono la camera, la camera high elevation, è perché qui c'è il terreno che mi copre la vista, quindi faccio 3, ok? Ancora un po' di più, 4, ancora un po' di più, 6, ok? Adesso lo sto vedendo un po' dall'alto. Target elevation, guardate adesso qui c'è un discorso anche interessante da affrontare. Prima allargo un po', qui vedo già un po' più, questa vista è un po' più normale, diciamo, rispetto a quella di prima. Allora, qui come vedete ho queste linee, che sono le linee dei muri che dovrebbero essere verticali, un po' inclinate, ok? Allora, in prospettive, se vi ricordate, quando avete studiato prospettiva, questa è una prospettiva a tre punti di fuga, quindi abbiamo una qua, una a destra, una a sinistra e una sotto, ok? Una sotto che fa tutto inclinato. Come si può levare questa cosa? Perché, se voi avete notato, non so se avete notato, per esempio, nelle riviste di architettura, riviste che fanno vedere, diciamo, la bellezza dei spazi, quando fanno fotografie dei spazi, nella fotografia, utilizzano una fotografia sempre, si chiama quadro verticale, una prospettiva a quadro verticale, quindi, di solito, quello che vediamo di spigoli verticali, nella fotografia si usa di metterli verticali. Adesso è molto facile con i programmi di fotoritocco, basta che uno cambia la prospettiva con Photoshop, con Free Transform, lo può raddrizzare. Invece prima era difficile, i fotografi di architettura prima non usavano questi obiettivi normali, usavano obiettivi che ruotano anche in verticale, rispetto alla macchina fotografica. Quindi la macchina fotografica rimane orizzontale, invece l'obiettivo ruota, quindi c'è un snodo tra l'obiettivo e la macchina fotografica. Per mantenere la macchina fotografica esattamente orizzontale, invece l'obiettivo guarda verso l'alto o verso il basso, solo per non inclinare la macchina fotografica. Perché se si inclina la macchina fotografica, si inclina il sensore, alla fine genera una foto tipo questa, che alla fine vedo il punto di fuga, quello a basso. Quindi è importante notare questa cosa. E questa come si può levare nel nostro caso? Nel nostro caso basta mantenere la macchina fotografica orizzontale. E questo come si fa? Si fa mettendo il target della macchina fotografica alla stessa altezza della macchina fotografica. Quindi io dove sto e il target dove sto guardando devono essere alla stessa altezza, così guardo orizzontale, così tutte le linee verticali rimangono verticali nell'immagine, ma non si inclina. Quindi guardate, se il target elevation lo faccio 6, come la macchina fotografica, vedete, adesso questi sono esattamente verticali. e adesso posso estendere questo un po' verso il basso e vedo quello che non vedevo prima. Ok? E questo lo abbasso un po' e così posso vedere questa vista. Adesso faccio sempre, vado su view, render, adesso invece di draft faccio medium, per esempio una qualità media. Vedete come zoom, lui mi cambia la larghezza, perché lui adesso si sta limitando a questa finestra, perché io sono su una resolution screen. Ok? Quindi quando zoom, guardate questo numero, cambia, perché si ingrandisce nello schermo questo. Ok? Ovviamente fino a un certo punto poi diventa... Adesso proviamo a fare un render così. Provate anche voi, per non perdere tempo, questa ci metterà qualche minuto. Grazie. 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 Ok. Ok? Allora, quando ho fatto, so se avete fatto anche voi, però quando ho fatto, dopo che ho fatto il rendering, questa è una cosa anche utile qua, che posso aggiustare l'exposure qui. Ok? Adjust exposure, quindi l'isposizione, se è un po' scuro, un po' chiaro, si può aggiustare direttamente, diciamo, dopo che abbiamo fatto il rendering. Perché alcuni motori di rendering per alcuni software questa cosa non è possibile, dovrebbe essere fatto prima. Non è la stessa cosa farlo con Photoshop dopo, perché qui siamo, lui c'ha una una foto raw, che è una foto di base, che contiene tante qualità, diciamo, tanta profondità, come una foto a 32 bit, ma non 8 bit. Quindi, quando cambio l'isposizione, alla fine lui riesce a recavare, se per esempio vedo una parte nera, se io aumento diciamo, l'esposizione, posso vedere al posto del nero qualche dettaglio dentro. Invece, se io vado su Photoshop, il nero, se lo faccio più chiaro, è sempre nero, se è veramente nero, completamente nero. Quindi, qui, è utile che posso modificarlo direttamente qua. Quindi, vedete, dentro Exposure, posso aumentare, abbassare, per vedere più chiaro. faccio Apply, vedete, adesso vedo più chiaro, più scuro, quindi, qui posso decidere quant'è. Quindi, Highlights, Shadows, quindi le cause scure, possono diventare un po' più chiare, più scuro. Highlights, per esempio, il cielo qua, è un po' scuro, probabilmente, mi serve un po' più chiaro. Highlights, che sono le parti che sono più chiare. Quindi, vedete, adesso aumento, faccio OK, però, ovviamente, ha chiarito anche i muri, che adesso sono poco visibili, i dettagli dentro. Quindi, queste cose, le posso aggiustare, per garantire, una visibilità migliore. Attenzione al dettaglio, quindi, così non va bene, così non si capisce niente qua. OK? Quindi, OK, vedete, adesso così, posso cominciare a vedere, questi dettagli, questi tali. Ovviamente, adesso il mio progetto, non è completo, che mi mancano questi materiali, per esempio, questa scala dovrebbe essere bianca, queste ringhiere qua, bianche, quindi, ci sono tante cose da modificare, però, più o meno, questa è la procedura. OK? Poi, ovviamente, da aggiungere arredi, da mettere arredi dentro, e anche sotto, da modificare, se vedo un materiale, dove ci sono tante, c'è tanta ripetizione, come quello che vedo qua, allora, meglio che la modifico. OK? Ah, no, scusate, vabbè, ripeto, perché, dovevo farvi vedere, come salvare tutto quanto, quindi, ritorno, o faccio ancora un'altra vista, facciamo orbit, un'altra vista, da qua, per esempio, ok, allora, guardate, adesso, cambiando l'orbit, girando con l'orbit, ho cambiato l'altezza della camera nuova, perché sto girando con la camera, quindi, questo numero, lo posso copiare, incollare qua, dove c'è il target, e vedete, adesso, mi ha messo, all'altezza giusta, quindi, diventato orizzontale, adesso posso anche renderizzare, questo qua, vedete, per esempio, io ho interrotto questo, nel caso in cui, io non voglio vedere, tutto, perché non mi interessa vedere, tutta la, la struttura, in questo caso, io ho interrotto questa, rendering, o questa vista, e questo punto qua, ok, un punto dove non si vede niente, non mi, non lo interrompo così, per esempio, così è molto brutto, così, io, volevo far vedere qua, come se io, cioè, so che c'è qualcosa di interessante qua, però io l'ho tolto, non, come se sto scappando, qui non ho fatto il modo, non ho finito il modello, lo sto interrompendo, è brutto, dovete, se dovete interrompere, non far vedere, tutto quanto, ok, se non voglio far vedere, tutto quanto, lo devo interrompere, in un posto dove non ci sono dettagli, per esempio qua, così va bene, e così va bene, ok, però, così, è brutto, ok, non posso vedere questa cosa qua, che io, cioè, mi fai vedere qualcosa di interessante, tanto, e voi mi lo interrompi, non è bene, quindi, trovate anche a trovare, l'inquadratura, che visualizza al massimo, in quella inquadratura, senza perdere dettagli, e neanche, e neanche far vedere le cose inutili, diciamo, ok, così, per esempio, è brutto anche finire, con un'inquadratura, così, quindi, questo, almeno, lo devo dare un po' di rispiro, far vedere qualcosa in più, questo muro, per esempio, magari, lo completo, lo faccio vedere, ok, una inquadratura, tipo questa, va bene, il pavimento, qua, probabilmente, il pavimento o il terreno, non mi interessa, quindi, lo alzo, faccio un'inquadratura, tipo questa, e adesso, posso provare a fare, un rendering, in questo caso, qui, le qualità, sono quelli di prima, quindi, va bene così, faccio render, realised, qua, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Credo bene, diciamo che si vede bene qua, tranne che se mi avvicino, guardate come questo tutto si vede male, questi tagli qui si vedono male. E questo è il problema di anti-aliasing, si chiama, che il ricampionamento dell'immagine mi dà a gradini quando la linea è inclinata. Quindi questo si migliora molto quando io uso la qualità alta. Quindi adesso per ora, va bene, lo lascio così, però usate la qualità. Quando avete fatto la prova però, non fate direttamente la qualità alta così, perché probabilmente qualcosa non va. Se il materiale non vi piace, lo potete cambiare. Fate un rendering veloce come questo, con qualità medium o bassa. Quando vi è piaciuto, tutto a posto, cambiate la qualità, cambiate la risoluzione, fatela più alta, poi fate un rendering nuovo. Però dovete essere sicuri di non perdere tempo a fare un rendering buono, inutilmente. Allora, poi dopo posso aggiustare, se voglio, magari qua lo faccio un po' più chiaro. Ops, un po' più chiaro, troppo chiaro. Ops, non mi ricordo quant'era. Quindi qui faccio 12, per esempio. Ok, allora, adesso facciamo che va bene così. E qui c'è la possibilità o di esportare l'immagine, se lo voglio esternamente, quindi lo voglio un'immagine GBEC esterna, o posso salvare save to project, quindi salva nel progetto. Se lo salvo nel progetto, ok, qui mi dice come si chiama questa vista prospettiva facciata nord, per esempio. Posso dire così, faccio ok. Adesso posso chiudere e lui torna alla vista quella che era prima, che è Hidden Lines in questo caso. Però dentro qui, adesso ho una lista di viste nuove, che sono questi rendering che ho fatto. Se faccio doppia clic su prospettiva facciata nord, vedete adesso questo non è il modello, ma è un'immagine e basta. Un'immagine raster. Ok, quindi ho questa immagine, magari ho un'altra immagine. Ho un 3D fatto così, quindi voi fate i vostri rendering che vi interessano. Ovviamente non fate come me, fatelo bene. Qui ancora non ho finito a fare i dettagli dentro. Qui vedo questo pavimento che specchia troppo, che deve essere meno. Quindi adesso ho fatto delle prove, però quando avete finito tutto quanto fate questi rendering. Allora, quando ho fatto tutto quanto, ho fatto tutti i elaborati 2D, le planimetrie, fatte bene. Posso rappresentare adesso questo, posso fare le tavole. Però adesso vi faccio vedere solo una cosa. che qui, avendo questi rooms, questi superfici colorati qua, probabilmente non mi serve farli colorati quando li devo mettere in tavola. Però qui mi servono perché sono interessanti. Allora, questo si può gestire, i colori si possono gestire andando su color scheme, che non so da voi qual è. Comunque, io non voglio che questi, diciamo, prendano colore. E qui mi li da colorati. Quindi adesso vado su color scheme e posso creare un, diciamo che se andate su numerazione, vedete come lui li colora secondo il numero. Quindi ogni superficie chiusa mi dà la superficie e mi dà un numero a questa superficie, quello che vedo qua. Ok? 6, 5, quindi ogni numero avrà un colore. Lui lo mette a caso. Però se io voglio cambiarlo, qui posso dire, adesso io ho scelto, era non, però mi lo dava colorato comunque. Comunque, dentro numerazione, mi dà il colore di ogni numero. Quindi per lo spazio 1, il colore è questo qua, verde. Quindi vedete, mi sa che questo 1, ecco, verde. Ok? Quindi qui posso creare, o posso, diciamo, mi sa, duplicare. Posso creare un, una schema di colori diversa. Quindi facciamo. Ok? Adesso posso. Vediamo se togliendoli probabilmente riesco a nasconderli tutti come colori. Ok? Ok. Ok, adesso non vedo più i colori, però vedo le scritte dentro che sono utili. Sempre. Anche se ci sono arredi, ovviamente, l'etichetta la posso spostare. Se qui c'è un letto, per esempio, questa etichetta la sposto, ovviamente, per essere leggibile e la metto nello spazio vuoto. Anche se tutto quanto lo spazio. Quindi, adesso, guardate, color scheme qui, ce l'ho questo looks. Quindi se vado sul piano interrato, ecco, qui ce l'ho non, però non mi dà colori. Non so perché mi dava colori. Comunque posso usare lo stesso schema di colori. Quindi tutti i spazi non ci hanno, non sono visibili come colori. Quindi va bene. Faccio così e va bene. Ok, quindi si può gestire in questo modo. Allora, vi ricordate che abbiamo parlato di prospetti, quando abbiamo parlato di visualizzazione, come va visualizzata, con ombre, senza ombre, con colori, alcuni oggetti sospenti, come i piani di riferimento. Anche qui si può fare. Allora, le planimetrie, che sono un disegno praticamente tecnico, ci sono tipi di planimetria, ovviamente, sapete come secondo il caso cambia la visualizzazione. Per esempio, nel caso dei progetti, di solito, all'architetto si chiede di fare una planimetria, ovviamente, da presentare al comune. Questa planimetria deve avere tutte le quote, deve avere le superfici dei spazi, deve avere certe normative, devono essere rispettate. Però, dopo che è stato approvato, è stato costruito, mentre si sta costruendo, di solito, l'immobiliarista o l'imprenditore che deve vendere, chiede un altro tipo di planimetria, che è un planimetria molto più bella, molto più colorata, perché deve essere il book di questo edificio, se deve vendere, soprattutto, succede nel caso dei edifici residenziali. Quindi, deve avere una planimetria con tutto l'arredo dentro fatto bene, con tutti i texture. In questo caso, diventa, diciamo, più una cosa artistica, che più si presenta meglio, più si vende meglio. Quindi, alla fine, è lì, si può usare il colore, per esempio, quello che abbiamo visto prima, si possono usare i texture, quindi posso visualizzare direttamente qui una vista colorata, o una vista realistica, o posso fare addirittura rendering dall'alto. Quindi, posso prendere una vista 3D, guardo dall'alto e faccio un rendering, così avrò anche le ombre dentro, quindi viene una cosa artistica molto bella. Però, nel caso tecnico, non ci servono le ombre, perché non doppiamo, si capisce il muro dal tratteggio, per esempio. Non deve essere con l'ombra, perché chi lo legge deve essere un tecnico che capisce di questa materia. Invece, nel caso della vendita, il cliente, ovviamente, può essere anche uno che non sa leggere una planimetria, però, se la vede, in un certo modo, lo capisce bene. Soprattutto, in questi casi, servono sempre gli arredi, perché, alla fine, per percepire lo spazio, se uno non è tecnico, non capisce materia, ovviamente, non può scalare. Noi, probabilmente, riusciamo a capire quanto è grande questo spazio, solamente guardando le scale, perché, solamente guardando l'apertura della porta, capiamo quanto è grande la stanza o lo spazio. Invece, per rappresentarlo a uno che non è nell'ambiente, dobbiamo presentarlo legato a qualche scala che lui riconosce, la sedia, la poltrona, il letto, quanto è grande, perché non è così cosa tecnica. Allora, quello che dobbiamo presentare noi, quello che dobbiamo fare, dobbiamo fare una cosa tecnica, in cui si presenta il progetto in planimetria, in sezioni, in prospetto, deve essere tecnico, quindi, come se stiamo presentando una cosa tecnica, per far capire come funzionano, quindi tratteggiati, come devono essere tratteggiati, però, i 3D devono essere un po' più artisti, perché 3D, ovviamente, anche nei casi di presentazione al comune o a qualche ente pubblico, a volte vi chiedono l'impatto ambientale, quindi devono vedere questo veramente come sarà costruito con i materiali, con gli effetti particolari che ha questa struttura, perché comunque devono approvare se questo va bene per questo tipo di ambiente o non va bene. Quindi, quello che dobbiamo fare, le pianimetrie, le sezioni, i prospetti, devono essere tecnici più chiari possibili e anche la prospettiva del 3D deve essere più chiara possibile, però possiamo aggiungere la fantasia, la parte artistica, quindi la vista fatta bene, il punto di vista giusto e anche i materiali fatti bene, la visualizzazione, la luce corretta, non fate un rendering in control luce, per esempio, perché non si vede niente, non è anche una luce sparata. Ok? Quindi, adesso andiamo a vedere questo... Andiamo a vedere come possiamo fare le tavole. Ok? Allora, adesso dobbiamo aggiungere una tavola qui su Sheet, come vedete qui, che sarà da voi in una tavola? Come si chiama? Tavola, ok. Quindi, con il tasto destro possiamo aggiungere New Sheet. E qui vi chiede che tipo di nuova tavola volete. Se avete qui, secondo il template ovviamente sempre, se avete qualche scelta lo scegliete quello che volete. Noi faremo A3. Se non ce l'abbiamo nella lista, basta fare Load e andare alla libreria che avete. Abbiamo detto se non l'avete lo potete prendere e copiare, vi lo do io, non è un problema. Dentro la libreria potete andare su Cartigli. E qui ci sono quelli standard. Ovviamente possono essere modificati, cambiati, come misure, come tutto qua. Noi usiamo quella A3 metrico. Open. Adesso io ce l'ho, quindi non faccio Open. Quindi faccio qui ce l'ho, faccio OK. E mi apre questa tavola. Vedete, adesso qui ho una tavola nuova. Allora, non avendo niente selezionato, a sinistra vedo la proprietà di questa tavola. Allora, quello che è importante, quello che vedo a destra qui. Il nome della tavola, il numero, il progetto, dati, consegna. Tutto questo può essere anche tolto, modificato. Possiamo entrare, come abbiamo fatto nelle famiglie. Possiamo entrare nella famiglia, sempre una famiglia è entrare nella famiglia di questa tavola e modificarlo. Vedete, se seleziono questa tavola, posso andare su Edit Family e posso modificare i contenuti. Però adesso facciamo, lasciamola un attimo così. Seleziono, guardate, vado su, non seleziono niente. Guardo, a sinistra nella proprietà, posso modificare il nome, per esempio, di questa tavola. Vedete, qui è chiamata A102 Unnames. Qui voi forse avete A101 perché io ho fatto una prova, quindi questa è uscita dalla seconda tavola. Però il numero lo cambiamo e anche il nome lo cambiamo. Allora, le tavole che dobbiamo fare per questo progetto sono tavola. Dobbiamo fare planimetrie, di solito si ordinano così. Planimetrie, quindi piano terra prima di tutto, piano primo e qui non abbiamo altro. Quindi di solito è riconosciuto così. Fare piano terra, poi andare su, primo, secondo, terzo, quello che è. Noi abbiamo adesso piano terra, piano primo. Poi dobbiamo fare, l'ultimo sarà l'interrato di planimetrie. Ok? Quindi piano terra, primo, primo. Ovviamente questo, perché l'ordine? Perché ci sono i nomi, c'è il numero, scusate. Quindi la prima pianta, planimetrie. E poi, dopo di che, viene la tavola dei prospetti. Allora, di solito si mette più di un prospetto insieme. Adesso vediamo le misure dei prospetti, secondo la scala. Si mette più di un prospetto insieme, quindi probabilmente due insieme, se non quattro. Ovvero, penso che due insieme in una tavola. Quindi si fanno, per esempio, due tavole di prospetti, che sono quattro prospetti. Poi dopo si fanno i sezioni. Ok? Quindi saranno due sezioni, va bene. Comunque, due sezioni potrebbero entrare anche nella stessa tavola, perché i prospetti, come ho detto, due entrano nella stessa tavola. E poi, alle fine, le viste tridimensionali. Quindi, poi anche lì, secondo le viste che facciamo, possiamo impaginarli in una tavola, due o tre viste. O in due tavole diverse, non è problema. Allora, vediamo. Proviamo adesso. A101, di solito, A per architettonico, 101. Quindi, si mette 101, 102, 103. Quindi, adesso facciamo A101 questo. Exit name, quindi la tavola. Il nome della tavola, pianta, piano, terra. Adesso faccio Apply, vedete, ha il numero della tavola, piano, terra. E vedete, qui ci è apparso anche questo qua. Ok? E qui possiamo anche modificare tutte queste cose. E qui non ci sono revisioni, possono essere aggiunti. Quindi ci sono tanti. Ok? Quello che vediamo qui, che possiamo aggiungere anche. Ok, disegnato da. Ok, designed by. Quindi se qui scrivo. E qui non mi le aggiunge. Però, comunque, questi possiamo modificarli dentro la tavola. Questa è fatta così. Questo Revit lo possiamo levare. Quindi se andiamo dentro Edit Family. Modifica famiglia. Vedete, questi li potete anche levare. Perché sembra un po'. E poi potete ritornare Load into Project. Quindi, quando lo ricarico, devo sovrapporre, ovviamente, quello che esiste. Qui potete scrivere il vostro nome, il corso, tutto quanto. Quindi, ordinatelo in qualche modo. Ok? Vedete, vi faccio vedere dove potete scrivere questi testi. Quindi, se io vado Edit Label. Label è un testo interattivo. Invece il testo è un testo normale. Vedete, se vado su Create, posso aggiungere un testo, che è un testo statico. O un label, che è un parametro di testo. Quindi, posso cambiarlo là. Questo è un label qua. Ok? Quindi, se faccio... Vabbè, adesso non vi preoccupate di questo. Potete qui cancellare questo e scrivere un testo normale. Quindi, aggiungo un testo. Posso scrivere quello che voglio. Ok? E qui a sinistra potete trovare l'altezza del testo come una famiglia. Quindi, il testo può essere piccolo, grosso. Ok? Quindi, potete scrivere, per esempio, i dati, quelli che volete aggiungere. E questo sarà fisso per tutte le tavole. Perché io, se o rinserisco questa dentro il progetto. Sovrappongo quello che ci stava già. Adesso posso creare nuove tavole. Saranno sempre con lo stesso parametro. Con lo stesso testo qua. Ovviamente, questi cambiano perché è un label. È un... Un oggetto interattivo. Allora, o posso duplicare questa tavola, o posso inserire una nuova. Adesso faccio duplicate. Tasto destro. Duplicate view. Ah, questo non lo posso duplicare qua. Allora, faccio... Eh, non si può duplicare. Faccio atremetrico, di nuovo. Ok? Vedete, comunque è avvenuto con lo stesso modo. Adesso il numero ha dato un numero in più. Quindi 102. Unnamed. Quindi qui posso dire che... Pianta. Pianta. Piano. Primo. Ok. Apply. Adesso viene... Pianta piano primo. Ok. Ovviamente dobbiamo inserire anche il nome del progetto tra queste cose che scriviamo qua. E adesso... Adesso torno a quella di prima. Devo inserire il mio... La mia planimetria. Vado su... Vado su... Vado su... Views. Guardate, abbiamo detto prima... che possiamo creare anche... che possiamo creare anche... e anche c'è... scusate, c'è dopo le piante dobbiamo mettere anche la planimetria, quindi... la vista dell'altro, il sito. Ok? Anche dopo le piante. Ricordiamoci. questo qui... La vista dell'altro. Ok. Allora... Piano zero, per esempio. Che anche il mio non è completo. Posso modificare il stile di vista. Vi ricordate quella dei prospetti? Vi lo faccio rivedere. Quindi... Qui posso dire che questo deve essere... Hidden lines. Deve essere dettagliata. Dettaglio fine. Ok? Non devo avere... Ombre. Ok? Magari... Guardate, questo terreno... è un po' confondente qua. Che non vedo... quale prato e quale pavimento. Giusto? Quindi quello che vedo qua... dovrebbe essere prato. Proverisco a fare il retino... Tutto... Di puntini... O qualcosa di... Di utile qua... Per far vedere che... È un po' diverso. Ok? Quindi... Materials. Vado... By materials. Vedete che materiale c'è qui... Questo... Scusate... Ho selezionato il terreno topografico... E qui c'è il parametro del materiale. Vado su tre... Su questi tre puntini... Per modificare... E qui mi dice che... Il materiale... È questa qua... La grafica di questo materiale. Quindi... Surface Pattern... La superficie... Non mi dà nessun... Texture. Io... Metto... Qualche cosa di... Puntinato... Tipo questo... Per dire che... Gesso stucco... Per esempio... Va bene. Questo è il gesto stucco... Però... Faccio... Ok... Apply... Ok... Dice... Non sopporta il pattern. Vabbè... Non... Non ce la fa. Va bene. Non lo so. Va bene. Non ce la fa. Quindi non lo possiamo fare niente. Allora... Ritorniamo... Su Visibility. Qui... Nascondiamo... Il... I piani... Di... Riferimento... Che... Non ci piacciono questi verdi. Quindi... Quindi... Si trovano... Sì... Reference planes... Ok... Possiamo nascondere anche i prospetti... Volendo... Possiamo mettere un texture per questi... Visto che qui non si può visualizzare un texture... Quindi mi può visualizzare almeno qua... Ok... Quindi questo solaio qua... Edit... Ok... Ho fatto un solaio... Questo esterno... Posso modificare il materiale... Che ho fatto per il finish... Quindi questo è il grass esterno... Ho creato questo materiale... E qui posso mettere un... Un pattern... Quindi un certo... Proviamo questo... Crosshatch... Questo... Ho un pattern... Così... Ok... Vedete... Adesso mi fa vedere almeno la planimetria... Diversa da quello che è esterno... Impianta... Impianta... Qualcosa... Ok... Allora... Quello che... Anche qui per esempio... In questa pianta sotto... Posso modificare anche questo materiale che sta qua... Per far vedere qualcosa... Allora... Quello che sto vedendo qua... E soprattutto la scala... La scala del texture... E' legato... E anche il testo... Ci sono testi... E' legato alla scala di rappresentazione... La scala di rappresentazione... La scala di rappresentazione... Lo vedete qua... Vedete... Adesso... 1 a 100... Ho messo la scala di rappresentazione... Vedete come... Questo... Questi sono piccoli... Come... Come... Mattonelle... Per esempio... Se faccio... 1 a 200... Sono più grandi... Come tasselli... Allora... Questo non rappresenta... Rappresenta direttamente... Quello che sta a... Perché questo non è un texture... Non è apparenza... Come... Avete visto... L'A... Come... Ok... Vedete... Dentro il materiale... Qui... Qui... Abbiamo detto... C'è... Graphics... C'è... Apparenza... Qui... Questo è legato... Questo è il texture... Vero... Quindi qui... Quando descrivo una mattonella... Devo sapere esattamente... Quanto... Quanto è grande... Per renderizzarla... Nella scala giusta... Invece... Dentro Graphics... Sto parlando di una cosa... Diciamo... Solo per rappresentare... Per dire che questo... Dovrebbe essere... Dovrebbe essere... Un certo... Un certo tipo di materiale... Rappresentata con questo tipo di... Diretino... Quindi qui... Alla fine... Una cosa... Tecnica... Solo... Non... Non è una cosa... Rappresentata... Diciamo... Di... Di... Realistica... Quindi qui... Questo... Cambia scala... Ovviamente... Come... Come il... La scala di rappresentazione... Per non... Essere... Per esempio... Troppo pesante... Più... Leggera... Perché se questo... Veramente... Si rappresenta... 1 a 200... Alla stessa distacco... Di 1 a 100... Al fine... Si possono attaccare... Le linee... E non si capisce più niente... Ok... Credo che questi... Sono problemi... Che avete sicuramente... Affrontato... Quando avete fatto... Alcuni disegni a mano... Quindi adesso... Facciamo... 1 a 100... E vediamo... Come viene... La... Nella planimetria... Di solito... Dobbiamo far vedere... Sezioni... Dove passano... Perché... Per tornare sempre... A... A discuterne... I prospetti... Probabilmente... Non ci servono... Non ci serve vedere... Dove passa... Dove... Questo... Diciamo... Il prospetto... Perché io so... Che questo... Nord... Est... Quindi... Una cosa... Che si può levare... Allora... Provo a togliere... Il prospetto... Questo... Per esempio... Penso che... Elevations... Eccolo... Applica... Ok... Adesso non li vedo più... Sezioni... Ovviamente... Questi sono abbastanza brutti... Così... Infatti... In questo modo... Meglio... Metterli tutti... Più o meno... Allineati... Vedete... Questo lo sposto... Questo lo sposto... Vedete come salta... Diventano tutti... Allineati... Dallo stesso modo... Questo lo sposto... Finché salta... Là... Questo solamente... La linea... Che indica dove passa la sezione... Però la sezione stessa... Finisce qua... Vi ricordate questo? L'inquadratura della sezione... Quindi la sezione mi fa vedere solo da qui a qui... Invece... In planimetria si visualizza l'andamento fino qua... Ok... Quindi non vi preoccupate... Se questo arriva fino qua... Non vuol dire che la sezione è diventata più larga... Allora... Io queste sezioni... Anche le ho fatti durante il lavoro... Però non è detto che li devo visualizzare... Nelle tavole... Ok... Perché probabilmente... Questa sezione... Adesso vediamo... Guardate... Ci sono tanti... Che potrebbero essere inutili... Questa per esempio... È una sezione... Che è quasi un prospetto... Non mi serve... Perché questo che vedo in prospetto... Questo se vi ricordate l'ho fatto durante il lavoro... Perché a me serviva... Mi sa che questa sezione... Vediamo dove sta... Sezione... Zero... Perché mi serviva durante il lavoro... Ecco... Questa qua... E questa qua... Per vedere dietro questo muro che succede... Quindi questa la posso anche cancellare... E qui dice... Quando cancello la linea di sezione... Mi dice che tu... Vuoi anche cancellare il view... Vero? Ok... Quindi la vista legata a questo... Perché questo è un oggetto... E questa è la vista... Questa è una vista legata a questo oggetto... Quindi si cancella con questo oggetto... Vedete... Non ci sta più... Vedo sezione 1... Questa... Non... Sì... Mi sembra che è utile... Perché mi fa vedere... Il dislivello qua... E la scala... Come se... Ovviamente... Visualizzata male... Perché devo aggiustare tutto... Far vedere... Con un dettaglio... E ingrandisco un più... Perché taglia qua... E questi sono tutte cose... Che sono stati fatti durante il lavoro... Che... Non sono... Fatti... Bene... Per essere rappresentati... Devo nascondere questo... Quindi... Adesso... Ritorno in planimetria... Non è... Il problema... Questo... Quindi questo lo posso... Anche cancellare... Sì... Questo... Per esempio... Vediamo questa sezione... No... Mi servono... Due... Va bene... Una longitudinale... Una trasversale... E basta... E guardate... La vista di una sezione... In un'altra sezione... Non è che serve tanto... Anche questa lo possiamo... Nascondere... Diciamo... Allora... Quale abbiamo visto... Noi sezione 2... Quindi... Seleziono questa... Questa si chiama sezione 2... Quindi possiamo cancellarla... Questa si chiama sezione... A-A... Questa si... Ci piace... Sezione BB... Ci piace anche... Sezione 3... Anche questa... Non è male... Vedo in line... Dettagliato... Vedete qui c'è l'ombra... Ok... Quindi... Adesso poi dopo impostiamo la... La stile di vista... Ok... Quindi adesso io ho lasciato queste tre viste... Ovviamente questa sezione è troppo lunga... L'ho letto qua... Questa linea di sezione... E l'ho letto qua... Ok... Anche questo... Qua... E magari questo... Non serve tutto quanto... Pino qua... Ok... Allora questo... Va bene in questo modo... Salvo... No... Adesso devo nascondere... Raster image... Quindi vado... Abbiamo detto su questi... Model categories... Da nascondere... Raster image... Applica... Ok... Ok... Deve essere dettagliata la vista... Va bene... Ok... Allora adesso posso salvare... Guardate... Create view template from view... Quindi... Queste... Tutte le caratteristiche della visualizzazione... Se mi piace in questa pianta... Faccio il template... Create view template from view... E qui scrivo... L'uomo di progetto... Piante... Ok... Adesso se voglio ancora posso modificare... Adesso faccio ok... E non la voglio modificare... Vado su... Piano 1... Vedete qui è diverso... Adesso faccio... Così... Faccio piante... Perché questo mi lo fa colorato... Ah... Perché qui non c'erano i cosi... Giusto... Allora... Guardate... La schema di colori... Qua... Non la posso più modificare... Perché tutte queste cose... Sono legate al view template... Ok... Al template della visualizzazione... Io la devo cambiare direttamente qua... Quindi... Vado dentro il view template... E lo modifico... E qui devo dire... Che color... Il colori... Color scheme... Uso questo qua... Che ho... Impostato prima... Vedete adesso sono andati via i colori... Ok... Vedete questa sezione... È un po' critica... Per sbaglio... Vedete... Passa... Quasi dentro il muro... Dentro questo muro... Forse conviene spostarla... Farla passare... Per esempio... Nella porta... E far vedere questo terrazzino... Quindi la posso spostare... In questo modo... Ok... Adesso vado a vederla... Si chiama sezione 3... Ok... Vedete... Adesso vedo... L'uscita a questo terrazzo... E qui non vedo un muro in faccia... Ok... Allora... Torno... In planimetria... Planimetria 1... Perfetto... Anche qui... Ho un solaio... Che c'ha... Un altro... Un altro texture... Si vede... Si vede in prospetto... Che posso modificare... Va bene... Adesso vado piano interrato... Gli do lo stesso... Lo stesso template... Di visualizzazione... E va bene così... Ok... Allora... Adesso vado... Su... Sulla... Pianta... Piano terra... Sulla tavola... E devo inserire... Questo... Piano 0... Abbiamo detto il primo... La prima tavola... Il piano 0... Questo lo posso trascinare... E lasciare dentro... Allora... Clicco... Allora... Vedete che è successo... Mi l'ha inserita così grande... Mi l'ha inserita così grande... Perché... Questa scala... Un accento... E questa... Nella misura reale... Quindi... Se l'A3... E questa qua... Questa dovrebbe essere un accento... Non entra... Vedete... La planimetria è un po' più grande... Quindi... Rappresentiamolo... Lo mettiamo tutto... In una scala 1 a 200... Ok? Facciamo così... Quindi... Seleziono questo... Questa planimetria... E qui... E qui... Possiamo... Aspettate però... Qui... 1 a 100... 1 a 100... Ah... Perché questo non l'ho dato il... Il template giusto... Allora... Vedete... Adesso... Guardate... Adesso... Se seleziono questa vista... Questa... Sì... Questa vista... Questa vista... Il template del view... Piante... Questo più spiante... Vado dentro... E dico che questi devono essere rappresentate... Tutte le piante... Lui mi aggiunga tutti insieme adesso... A una scala di 1 a 200... Apply... Ok... Vedete... Vedete... Questi li ho esposto... La metto qua... Ok... Ovviamente... Qui mancano tante cose... La red... Di scrivere... I spazi che sono... Le misure... Comunque... Adesso... Piano primo... Vedete... Adesso... Se aggiungo il piano primo... In automatico... Sarà... Giusto... Di scala... Giusto... Perché... Io... Ho cambiato... Ho modificato il template... E lui... Mi fa direttamente... La scala giusta... Pianta primo... Piano primo... E poi... Faccio un nuovo... Un nuovo... Sheet... Tavola nuova... Questa la chiamo... Interrato... E metto... La pianta... Meno uno... Ok... Faccio... Nuovo... Sheet... Ok... Questa sarà... Planimetria... Planimetria... Facciamo... Una planimetria... La chiamiamo... Aggiungiamo... Aggiungiamo... Ok... Guardate... Questa non ha il template... Giusto... Adesso... La se... La se... La seleziono... Attorno alla... New template... Questa... 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 Ma che succede... Questa... 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 La vista... La vista... Basa... Questa... 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 ritorno questo non so che sto facendo poi vediamo allora faccio nuovo nuovo sheet e questa dovrebbe essere abbiamo detto prospetti facciamo nord e sud e qui inserisco i prospetti nord e sud vedete come sono due diversi perché sono due diversi allora torno qua view template adesso questa non aveva il template giusto questo si questo si vedete qua dovrebbero essere tutti sul template che ho fatto quando ho fatto i prospetti allora torno qua ok si è scalato questi sono i due prospetti nord e sud vedete attenzione però vi faccio vedere questa cosa che ho fatto questo prospetto nord per esempio quando l'ho fatto adesso devo ritornare un attimo a visualizzare il questo lo devo modificare devo visualizzare il i prospetti ok elevations qui allora guardate questo prospetto questo prospetto se comincia da qui al fine non vedo niente vedo solamente la parte alta alta vedete che ho fatto io ho spostato questa linea di prospetto per metterla avanti adesso se faccio così se vado al prospetto nord guardate che mi fa vedere solo questa parte perché c'è il terreno che si alza quindi vedo una parte del terreno e da dietro appare la parte solo del piano alto di questo di questa struttura e invece io che cosa ho fatto ho andato su la planimetria nel piano zero e ho selezionato questo prospetto quando lo selezionate vi fa vedere la linea dove comincia questo prospetto e voi lo spostate lo mettete qua che praticamente sarà una sezione qua quindi da qui comincia in poi però per noi anche se una sezione qua non è importante non è importante l'importante è vedere il prospetto completo anche se questa parte nell'interrato c'è qualcosa quindi sarà sezionato vediamo un po' se vado lì su nord vedete c'è questo sezionato però non è un problema comunque si chiama prospetto perché stiamo vedendo tutto il prospetto completo e se voi vedete nel in questi disegni comunque il prospetto è così ok vedete qui per non mettere questo spazio l'hanno levato però qui c'è qualcosa in interrato ok però loro volevano vedere solamente il prospetto senza i sezioni quindi non ce l'hanno fatto vedere anche se qui si capisce che hanno sezionato questo muretto ok perché se è un po' più arretrato al fine non vediamo niente quindi importante questo dettaglio allora io ritorno questo prospetto dentro vedete adesso le tavole sono stanno crescendo questo è un prospetto nord questo è un prospetto sud e poi faccio una nuova tavola new sheet e qui aggiungo aggiungo un che cosa ci mancavano i prospetti est ovest giusto quindi questa vista si chiama prospetti est e ovest ok allora non basta scriverlo qua dobbiamo scriverlo anche sotto ogni prospetto adesso vediamo come est e ovest ok allora possiamo aggiungere un testo allora annotate text qui possiamo scrivere che questo prospetto est ok vedete anche questa è una famiglia quindi questa è la famiglia facciamo arial 2 noi facciamolo più grande ok ma perché non si ingrandisce ecco arial 2 facciamo arial 4 ovviamente usate lo stesso per tutti quanti ok quindi lo posso mettere qui all'inizio del prospetto e poi questo va copiato e messo qua ovest ok vedete come in automatico questa tavola vi scrive qui la scala di rappresentazione ok perché già impostato dentro la vista quindi lui se cambiamo facciamo un accento questa si aggiorna in automatico però intanto voi controllate tutto per non fare casini allora andiamo su che cosa abbiamo detto sezioni può essere sezioni dopo le piante prospetti mettiamo sezioni quindi facciamo una nuova tavola a 3 sempre sezioni 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 a a e b e qui metto questa sezione allora ovviamente anche sezioni le mettiamo a 200 a 200 quindi vado su sezione e qui posso fare anche il template qui lo posso mettere direttamente perché il template il view template non ce l'ha però se applico view template alla fine non posso più mettere da qua devo modificare direttamente da view template ecco questo un template però questo è un po' diverso ok qui per esempio non è dettagliato vedete qui non lo posso modificare però ovviamente usate una un template un po' più chiaro ok vedete adesso qui c'entrano tutte due sezioni a a e b anche questo se vado qua view template e torno qua è diventato più piccolo allora dopo facciamo le viste prospettiche le viste del rendering allora vado su renderings vedete aggiungo le viste che ho fatto ok ovviamente una vista così grossa quanto altre inutile no quindi facciamola piccola ok facciamo piccola questa come l'activate io scale adesso possiamo scalare ok ok quindi dovete selezionare la vista fare activate view attivare la vista selezionate la vista e scalate per farla grande quanto volete grazie